Il Dipartimento Materno Infantile dell'ASL VCO ha avuto il rilascio della certificazione From Cure to Care per il reparto di pediatria e per l'ambulatorio pediatrico dell'ospedale Questo riconoscimento è l'esito del lavoro di più di un anno di tutta la pediatria che vuol dire i medici, gli infermieri, le OS e i volontari che ci aiutano quotidianamente è una certificazione della Regione Piemonte che valuta attraverso una rete di valutatori di Torino e di altre ASL l'efficienza e l'efficacia delle pediatrie della nostra Regione In realtà è una certificazione, quindi un controllo esterno del lavoro che stiamo facendo Noi abbiamo richiesto di farci controllare e il risultato è che abbiamo superato l'esame e avevamo studiato prima e siamo riusciti ad avere una valutazione positiva Valutazione positiva in diversi ambiti, non certo tecnici, medici ma di ambiente, per esempio, il care di presa in carico del paziente di continuità tra il territorio, l'ospedale e di nuovo il territorio e una serie di altri fattori che vengono valutati in modo abbastanza complesso Ecco, in particolare ci spiega in che cosa consiste questa continuità tra ospedale, territorio, ospedale? I pediatri di base, i pediatri ospedalieri in realtà fanno due lavori diversi ma visitano gli stessi bambini In ospedale quelli un po' più gravi e sul territorio quelli o sani, la puericoltura, oppure poco malati Ci sono poi tutte le situazioni grigie di passaggio in cui non si sa bene di chi è il compito ma se io vedo un bambino devo dare le informazioni alla famiglia ovviamente e al pediatra di base, al suo medico curante in modo da mantenere una migliore presa in carico di quel problema in quella situazione e allora abbiamo istituito una serie di comunicazioni sistematiche non solo sporadiche, col telefono, con le mail, con la posta certificata, eccetera per passarci queste informazioni in modo istituzionale Veniamo alle attività in reparto From Cure to Care parte dal momento del ricovero Dove vengono date tutte le informazioni non solo in italiano ma anche in lingua per gli utenti stranieri, per le mamme straniere Poi un'altra area dove abbiamo migliorato molto è l'area in neonatologia dove la mamma poteva già essere presente 24 ore su 24 con il proprio bambino però abbiamo creato un'area dove oltre alla mamma e al papà il neonato può avere contatto con i nonni e con gli eventuali fratellini e quindi abbiamo messo a disposizione questo spazio In pediatria abbiamo le camere singole e abbiamo aperto l'apertura di visita L'orario di visita è aperto dalle 8 alle 20 in modo tale che sia i bambini che gli adolescenti possano continuare ad avere i contatti con i loro affetti e con i loro amici Altro miglioramento è stato fatto nelle stanze dove oltre ad avere il letto che avevamo già per la mamma o chi per essa che rimane in ospedale col bambino ma abbiamo messo le tv in tutte le stanze abbiamo posto un frigorifero e un forno a microonde a disposizione appunto per gli utenti abbiamo migliorato l'attività ludica con la presenza dei volontari Abio che già da anni lavorano da noi e anche la continuità della scuola grazie alla presenza della maestra in ospedale a livello infermieristico attenzione al dolore con terapie non farmacologiche di distrazione nei confronti di quelle attività che possono causare dolore distrazione ad esempio attaccando al seno il neonato oppure per i più grandi celli usando bolle di sapone o tablet a seconda dell'età la nuova certificazione vale due anni poi ci sarà un nuovo esame si affianca ai certificati Unicef Ospedale Amico del Bambino già in possesso di pediatria e ostetricia ginecologia e al bollino rosa per l'umanizzazione delle cure ginecologiche parliamo di vaccini nell'età pediatrica vivace il dibattito in questi ultimi anni tra promotori e detrattori le ultime notizie dicono che un italiano su cinque teme che non siano sicuri lì si collega all'autismo e poi ha fatto molto discutere il recente caso del bambino siciliano morto dopo il vaccino antimeningite sono paure affondate lei mi sta aprendo una serie di problemi di discorsi per i quali necessiterebbe veramente tanto tanto tempo diciamo che il vaccino è un prodotto farmaceutico altamente controllato e seguito esiste una filiera di produzione che è assolutamente salvaguardata esistono degli studi scientifici molto approfonditi che ne permettono la registrazione esiste poi una forma di vigilanza che è strettissima molto molto più stretta che per esempio nel settore del farmaco pertanto io non ho alcun problema ad affermare che i vaccini sono dei prodotti sicuri è evidente che sono dei prodotti che sono estranei al nostro organismo e così come qualsiasi sostanza estranea esiste un rischio teorico di pericolo noi possiamo pensare alle allergie alimentari ad esempio come possa essere pericolosa anche così l'ingestione di crostacei ci sono delle persone che sono allergiche addirittura al pomodoro piuttosto che al solfato di nickel e quindi hanno difficoltà a mangiare determinati alimenti molto comuni come le cipolle tutto quello che è strano al nostro organismo è pericoloso il vaccino nasce come prodotto testato come prodotto sicuro e come prodotto efficace dobbiamo rispettarlo perché comunque è una sostanza estranea al nostro organismo e quindi quando si fanno le vaccinazioni essere cauti eseguire una buona anamnesi prevaccinale e poi essere preparati per l'eventualità di un evento avverso raro ci sono effetti diciamo comuni effetti avversi comuni quale il dolore nella sede di iniezione l'arrossamento il dolore però queste sono assolutamente delle cose irrilevanti rispetto al profitto sanitario che si ha dopo una vaccinazione quindi perché è importante continuare a vaccinare i nostri bambini? è importante perché abbiamo debellato tramite le vaccinazioni delle malattie estremamente pericolose come il vaiolo abbiamo allontanato delle malattie estremamente gravi come la poliomielite che continuano ad esistere in alcune parti del mondo se si allenta la pressione vaccinale si dà modo a questi microrganismi di tornare a circolare nella popolazione ecco perché si dà tanta enfasi al famoso 95% di protezione della popolazione che in Italia sembra non essere più raggiunto proprio perché questo è un limite naturale che permette il controllo dell'infezione dell'ingresso di un patogeno all'interno di una popolazione la diffidenza esiste e questo ha portato numerose famiglie a non vaccinare i propri bambini noi teniamo qui ovviamente un registro delle vaccinazioni teniamo aggiornata la curva di protezione per ogni singolo vaccino e per ogni tipologia per ogni fascia di età e negli ultimi anni c'è stata realmente una riduzione delle quote di copertura non è un fenomeno locale è un fenomeno che si è osservato in tutta Italia anche in altri paesi oltre l'Italia naturalmente e devo dire che probabilmente il problema più grosso che lo genera è la poca informazione che si hanno su queste su questi farmaci perché io li chiamo farmaci vaccini tra le novità annunciate dal ministro Lorenzin c'è un calendario vaccinale aggiornato con una serie di new entry ci spiega per quanto si sa allora cosa cambierà e che cosa pensa di questi cambiamenti l'offerta del nuovo piano nazionale vaccini è un'offerta ampia molto ampia ed estremamente articolata è un'offerta che rispecchia anche quelli che sono altri calendari europei internazionali ed è frutto anche di studi delle principali società scientifiche di ricerca italiane ritengo che l'introduzione di queste novità avverrà in maniera graduale perché sono veramente tante quindi anche organizzativamente è importante che le cose vengano fatte bene quella che credo sarà la prima di essere introdotta quando la regione Piemonte lo delibererà per quanto attiene l'offerta attiva e gratuita sarà la vaccinazione anti-meningococco B noi abbiamo proposto in Piemonte la vaccinazione anti-meningococco C a partire dal tredicesimo mese di vita ci mancava il meningococco B e C nella sommatoria rappresentano quasi il 100% delle meningiti da Neisseria nell'uomo questo importante vaccino è indicato soprattutto nei primi mesi di vita quindi dovrebbe essere introdotto entro l'anno e sarà credo la prima novità del prossimo piano piemontese che dovrebbe andare a ricalcare il piano nazionale poi l'altra novità dovrebbe essere l'introduzione del vaccino antivaricella poi un'altra un'altra novità di questo piano è la possibilità di esecuzione anche del vaccino anti-meningococco tetravalente quindi un vaccino che comprende anche i ceppi A W135 ed Y che sono dei ceppi non autoctoni ma ceppi importati rarissimi fino a qualche anno fa ma che adesso cominciano a vedersi anche la popolazione nataliana stavo dimenticando anche il vaccino antirotavirus nel primo anno di vita nei primi mesi anzi anche questo attualmente la regione Piemonte lo offre gratuitamente solo ai soggetti a rischio per esempio i gravi pretermine dovrebbe invece essere allargata l'offerta e quindi data l'opportunità di essere vaccinati gratuitamente a tutti i nuovi nati abbiamo poi la vaccinazione dell'adulto che sta cominciando ad assumere degli aspetti di rilevante importanza sanitaria e quindi la proposta attiva e gratuita del vaccino antipneumococcico a tutti gli anziani e non solo nelle categorie a rischio un altro vaccino che sarà proposto in età adulta sarà quello per l'herpes zoster che è una problematica che affligge tante persone adulte e in commercio un vaccino che è consigliato al di sopra di 50 anni di età e che previene efficacemente l'herpes zoster ma soprattutto previene le sue complicanze veniamo infine al vaccino anti-influenzale quali sono le previsioni per l'influenza dell'inverno 2016 e ci può dare qualche anticipazione sulla campagna la campagna dovrebbe cominciare i primi giorni di novembre come tutti gli anni senza sostanziali differenze rispetto al passato il ruolo principale lo svolgeranno i medici in medicina generale che ovviamente hanno un contatto diretto con gli assistiti e insomma aspetto a loro proporre per primi la vaccinazione lo stesso discorso lo facciamo per i pediatri di libera scelta che ovviamente andrà a noi di individuare i bambini più delicati più deboli cui proporre il vaccino noi come struttura pubblica siamo certamente chiamati a collaborare e quindi permettere ai cittadini di venire anche presso la nostra struttura scegliere il luogo dove effettuare la vaccinazione però tutte le componenti aziendali collaboreranno diciamo che quest'anno è previsto uno drift antigenico virale come quasi tutti gli anni il drift è una variazione antigenica minore per cui i ceppi circolati saranno lievemente differenti a quelli dell'anno scorso ciò non comporta una particolare gravità della malattia un aumento della pericolosità della malattia l'influenza sarà pericolosa tanto quanto gli altri anni esposizione di funghi commestibili non commestibili e mortali nei giorni scorsi presso l'atrio dell'ospedale Castelli di Verbania in collaborazione con l'associazione micologica Bresadola di Verbania per sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile una mostra divulgativa e dimostrativa che si rivolge a tutta la popolazione e viene fatta in luoghi di grande accesso al pubblico questa è la logica di raggiungere il maggior numero di persone possibile perché insomma non c'è grande conoscenza sulle specie fungine il rischio è sempre in agguato e direi ci sono sempre alcuni messaggi che vanno ripetuti perché di intossicazioni ce ne sono spesso stampati anche dei volantini dedicati in più lingue per mangiare i funghi in sicurezza bisogna conoscerli le intossicazioni che avvengono avvengono perché vengono scambiati i funghi qui per esempio abbiamo un bellissimo esemplare che per lo più qualcuno lo può scambiare sicuramente per un porcino anche molto bello un bel gambo ma se lo guardiamo attentamente ci ritroviamo delle lamelle sicuramente non è una bolletacea sicuramente è un fungo in questo caso non commestibile un fungo abbastanza raro però tanto per far vedere com'è facile confonderli la confusione può essere anche letale ricordo che purtroppo l'anno scorso due persone si sono intossicate mangiando a metà falloides e sono morti il consiglio è quello di farli controllare è gratuito per i privati presso il servizio di micologia dell'aslo presso l'associazione micologica che si ritrova tutti i lunedì sera a Verbania ricordiamo che nei ristoranti possono essere serviti solo funghi certificati dai micologi ASL lo stesso discorso vale per chi li vende l'associazione Bresadola ha catalogato circa 800 specie di funghi 2600 circa però quelle presenti sul nostro territorio la maggior parte sono commestibili le parti la percentuale di quelli non commestibili o addirittura mortali in realtà sono poche sono poche però sono confondibili con quelle commestibili quindi la pericolosità del fungo commestibile e tossico mortale sta nel fatto della confusione non tanto nella quantità di mortali esistenti sul territorio voi collaborate in questa mostra insieme con l'ASL VCO ma di che cosa si occupa l'associazione micologica quali sono le sue principali attività principale attività dell'associazione micologica è quella di diffondere la conoscenza del fungo presso la gente normale che va a cercarsi i funghi la domenica sabato importante dunque conoscere i funghi o farli vedere a chi li conosce per mangiarli in sicurezza ma il servizio di igiene degli alimenti e nutrizione dell'ASL VCO non si occupa solo di questo ha due anime quella di sicurezza alimentare e quella di nutrizione l'anima di sicurezza alimentare fa campionamenti su tutti i prodotti alimentari e quindi su programmi regionali e nazionali e controlla tutti gli esercizi pubblici mercati e autorità competente locali in materia di sicurezza alimentare oltre questo abbiamo tutti i controlli sugli acquedotti quindi controlli sugli acquedotti che bisogna dire che sono in seconda battuta di fatto perché il primo controllore è il gestore e poi c'è tutto l'aspetto nutrizionale oltre ai fitofarmaci quello nutrizionale che è legato al controllo di tutti i fattori di rischio legati all'alimentazione quindi buona buona qualità di nutrizione evitare gli errori comuni nella nutrizione e poi tutti i servizi diciamo tutte tutti l'esecuzione di tutti i sistemi di sorveglianza che sono previsti a livello nazionale e regionale per valutare quali sono i veri problemi della popolazione a livello nutrizionale in poco tempo si potrebbe dire che noi abbiamo una popolazione che è tendenzialmente sovrappesa obesa in quasi 4 persone su 10 nell'età adulta e in circa un bambino su 4 alle scuole elementari quindi il problema è particolarmente importante e va affrontato in modo multisettoriale in occasione della giornata mondiale della salute mentale arriva anche a Verbania e a Omenia la Crazy Run come nasce questa idea? l'idea nasce in realtà dal Bandolo un'associazione Onlus di Torino che ci ha invitato a partecipare a questa serie di manifestazioni che hanno come filo conduttore questa corsa appunto la Crazy Run che partirà da Verbania e attraverso vari CSM della regione Piemonte arriverà a Torino il 14 di ottobre dove ci sarà una grande festa questi momenti saranno dedicati alla formazione e alla sensibilizzazione della popolazione sui temi della salute mentale il runner che è uno psicologo del Bandolo correrà per circa 300 chilometri fino ad arrivare a Torino toccando più CSM che in vari momenti faranno attività diverse per sensibilizzare a questo tema abbiamo sentito si parte da Verbania quando quindi a che ora e ci saranno anche delle iniziative collaterali esatto allora partiremo da Verbania giorno 10 che è la giornata iniziale abbiamo chiesto al comune di Verbania l'autorizzazione a poter partire sotto i portici quindi ci sarà anche ci saranno anche le associazioni dei volontari dell'Avap e dell'Avapo che ne approfitteranno per poter vendere dei biglietti per per l'acquisto di un pulmino che poi servirà successivamente ai nostri operatori per delle attività riabilitative con i pazienti della salute mentale poi successivamente dopo la conferenza stampa che ci sarà con questi operatori del bandolo il corridore questo runner partirà da Verbania fino ad arrivare all'altro CSM della nostra ASLE che è il CSM di Omenia cosa succederà anche a domenica ci saranno i volontari e gli operatori della salute mentale che continueranno la loro opera di sensibilizzazione invitiamo la popolazione che potrà venire sia al CSM di Omenia ma anche nel momento della conferenza stampa a Verbania alle 10 potranno accompagnare il runner per la prima parte della corsa per tutto il lungo lago in modo tutti insieme di dare uno spunto un invito per dire siamo tutti con la salute mentale il 14 ottobre poi gran finale a Torino con una bella festa certo il runner dovrebbe arrivare in piazza Aldofusi verso le 17.30 e tutti sono invitati lì troverete musica festa e ci sarà e costruiranno un mandala dal vivo perché è importante questo momento di sensibilizzazione abbiamo aderito molto volentieri a questa manifestazione perché prima di tutto perché in occasione della giornata mondiale per la salute mentale e poi perché è una cosa sia allegra che estremamente seria è importante perché richiama l'attenzione sulla distribuzione capillare dei servizi psichiatrici territoriali all'interno della nostra regione da un lato dall'altro perché pone l'accento più sulle possibilità di stabilire un buon livello di salute che l'accento sulla malattia i nostri pazienti e le loro famiglie devono ricordare che una vita normale si può raggiungere seguendo attentamente con costanza le cure che possono durare anche molto tempo e osservando cercando di conoscersi e poi osservando tutto un percorso riabilitativo volto alla maggiore integrazione sociale siamo giunti al termine di questa puntata di vivere in salute per qualsiasi informazione anche rispetto ai temi trattati potete chiamare il numero verde 800 307 114 oppure scrivere a vivere in salute chiocciola aslvco.it indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse arrivederci